La serata è stato un vero piacere poter partecipare, siamo stati molto felici di venire a ringraziare perché effettivamente i divani che abbiamo scelto da voi sono stati per noi un elemento essenziale della nuova casa. Come avete un po' raccontato, spesso quando si fanno dei grandi cambiamenti c'è bisogno poi di apportare anche qualche novità e a volte partire dal cuore della casa che può essere il momento dell'accoglienza e quello del divano almeno per noi è stato importante.